Noi cominciamo a portare l'intervento di Marcella Di Polco, che è una transessuale, l'acca dell'oro. Noi mi dobbiamo rientrare per dire un'intervento, per ottenerlo. Noi marciamo con questo. Quest'anno sono trent'anni che sono donna, ho la mia voce che ovunque vado crea situazioni di imbarazzo e io sono stanca. Noi siamo l'ultima nazione in Europa sui diritti civili. Perché io non posso veder riconosciuto il mio diritto ad essere famiglia? Ma perché questo? Ma perché il nostro diritto ad amare non deve essere riconosciuto? Riconosciuto.